Epaminonda, il generale tebano che sfidò l'egemonia spartana. Epaminonda 418 anno corrente. 362 anno corrente è stato un politico e militare tebano, considerato uno dei più grandi strateghi della storia antica. La sua figura è indissolubilmente legata all'ascesa di Tebe come potenza militare e politica nella Grecia del IV secolo anno corrente, e alla sua sfida all'egemonia spartana. Le origini e la formazione. Nato da una famiglia aristocratica di Tebe, Epaminonda ricevette un'educazione completa, che includeva la filosofia, la musica e la ginnastica. Si distinse per il suo intelletto, la sua abilità oratoria e il suo coraggio in battaglia. L'ascesa politica e militare. Nel 371 anno corrente, Epaminonda venne eletto Beotarca, carica militare di Tebe. In quel periodo, Sparta dominava la Grecia con la sua potente lega peloponnesiaca. Epaminonda si propose di liberare Tebe e la Beozia dal dominio spartano e di creare un nuovo equilibrio di potere in Grecia. La battaglia di Lautra. La svolta arrivò nel 371 anno corrente con la battaglia di Lautra. Epaminonda adottò una tattica innovativa, concentrando la sua forza d'urto su un'ala dello schieramento spartano, che venne sbaragliata. La vittoria di Lautra fu una disfatta epocale per Sparta e segnò l'inizio dell'egemonia tebana. Le campagne militari e l'egemonia tebana. Negli anni successivi, Epaminonda guidò diverse campagne militari contro Sparta e i suoi alleati. Liberò la messenia dal dominio spartano, fondò la città di Messene e creò la Lega Arcadica, una confederazione di città che si opponevano a Sparta. La battaglia di Mantinea e la morte. Nel 362 anno corrente, Epaminonda combatte la battaglia di Mantinea contro Sparta e i suoi alleati. La battaglia fu una vittoria tattica per Tebe, ma Epaminonda venne mortalmente ferito. La sua morte prematura privò Tebe del suo leader più abile e determinò il declino della sua egemonia. L'eredità di Epaminonda. Epaminonda è considerato uno dei più grandi strateghi della storia antica. Le sue innovazioni tattiche, come l'ordine obliquo, influenzarono i successivi condottieri, tra cui Alessandro Magno. La sua figura rimane un simbolo di coraggio, intelligenza e dedizione alla patria. Epaminonda, oltre il mito. Oltre alle sue doti militari, Epaminonda era anche un uomo di grande cultura e sensibilità. Era un amante della musica e della filosofia, e si dedicò alla promozione della cultura e dell'educazione a Tebe. Conclusione. Epaminonda è stato una figura fondamentale nella storia della Grecia antica. Il suo coraggio, la sua intelligenza e la sua abilità militare permisero a Tebe di sfidare l'egemonia spartana e di giocare, un ruolo di primo piano nella politica greca. La sua eredità continua ad ispirare studiosi e condottieri ancora oggi.